Ti ricordi cosa ti ho detto l'altra volta? Lucas, quando c'è l'ostacolo un gas, lo chiudi subito dopo E' stato fatto apposta quello lì, non come invito Se c'è lì il lele di fianco non puoi girare Lele mettiti di fianco all'albero Ma va, io ho messo apposta Ho messo, ho detto, magari resta lì per lì invece neanche il primo Io l'ho messo apposta perché sapevo che lele girava sotto Puoi prenda come vuoi, basta che passi Aia, strettissimo Stregolo lì Uè, va bene Mi riesco a fare l'entrata? Vai, va E' strettissimo E' strettissimo E' un bel passettino Ma no invece è il decoroso I ca' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.